Inserisco il mio nominativo utente, seguito dalla pressione del tasto invio, ma commetto un errore. In questo caso, il sistema mi informa subito che l'utente inserito non esiste, essendo stato configurato in tal senso. Pertanto ripeto il mio tentativo di accesso. Inserisco la parola d'ordine senza poter vedere ciò che digito. Anche in questo caso devo concludere l'inserimento premendo il tasto invio. Questa volta ho successo e ottengo l'invito.